messaggio per tutti gli spettatori tutti gli affezionati tutti gli abbonati del teatro dei servi malgrado in questo periodo non possiamo vederci noi stiamo continuando a lavorare sì non ci siamo fermati noi tutti i giorni siamo in teatro per forza ci hanno chiuso dentro veniteci ad aprire oppure portateci un panino un pezzetto di pizza aiutateci scherzo ovviamente però appena passerà questo momento difficile torneremo a ridere e a divertirci insieme